Caro amico musicista, ti do il benvenuto. Chi ti parla è Francesco Nano, l'ideatore di Scuola Suono. Questo sito, apparentemente uno tra i tanti siti dedicati ai musicisti, cela in realtà, dietro la sua innocua apparenza, una potenzialità gigantesca. Stiamo parlando di condivisione allo stato puro. Ma come Francesco? Ma che mi vieni a dire? Ma tutti i forum e le community dedicate al mondo della musica si basano sulla condivisione. Che avrà mai di diverso il tuo sito? Caro musicista, sono orgoglioso di presentarti il frutto della mia pazzia, delle mie notte in sogni di giorni e mesi passati con grafici, programmatori, sistemisti e staff di vario genere per la messa a punto. Ecco a te, Scuola Suono, Il portal network della condivisione di informazioni tecniche tra musicisti Il problema Il problema che mi ha spinto a creare questo sito è il fatto che al 99% delle possibilità la prima cosa che fa un musicista quando cerca un'informazione su qualsiasi argomento di carattere tecnico legato all'audio o agli strumenti musicali è sicuramente una ricerca su Google immagino la farai anche tu La seconda è invece una ricerca all'interno di qualche forum più specifico in inglese o in italiano dedicato al determinato argomento Metti il caso che tu abbia ad esempio bisogno di capire quale modello di microfono faccia il caso tuo o quale ampli o quale bacchette acquistare per le tue serate dal vivo e per suonare con la tua band Al 99% la prima cosa che farai sarà una ricerca in internet Sbaglio? Ed è qui che sorgono i problemi Fermati un attimo e rifletti Quanto tempo ci metti a trovare l'informazione che cerchi? Quante opinioni omogenee riesci a confrontare per farti un'idea precisa sulla questione? Quanti siti sei costretto a navigare per trovare proprio l'informazione che cercavi? La soluzione è Scuola Suono Scuola Suono è un incrocio tra un portale ed un social network nato per venire incontro ai musicisti imprigionando in un unico contenitore tutta quella conoscenza in materia audio e tecnico musicale attualmente sparpagliata sul World Wide Web Immagina come sarebbe sapere che esiste un portal network in cui tutti i musicisti che lo frequentano mettono in comune con gli altri le proprie conoscenze tecnico musicali e le risorse utili che hanno scovato nel tempo, negli anni di navigazione nel web in maniera sistematica, ordinata ed organizzata Come sarebbe trovare in un'unica pagina decine di opinioni, di video, di link a pagine web attinenti di risorse utili ed approfondimenti senza grandi pubblicità ingombranti proprio su quell'argomento che ti interessa come sarebbe scoprire che tutto questo è gratuito e a portata di click e soprattutto che è in italiano? Basta con l'immaginazione In effetti ci sei dentro Il progetto è ambizioso Ma se ognuno di noi fa la sua parte Presto Scuola Suono fungendo da un punto focale, da crocevia di snodo dell'informazione audio e tecnico musicale basata sulla collaborazione di tutti i partecipanti diventerà una risorsa preziosa per tutti Il modo migliore per partecipare è cercare, scoprire, chiedere e condividere informazioni attinenti agli strumenti musicali e alle attrezzature audio in generale sugli aspetti tecnici della musica Nella fattispecie troverai molti modi per partecipare alle varie attività di Scuola Suono Ad esempio partecipando alle discussioni, proponendo argomenti, esprimendo la tua valutazione sugli interventi degli altri musicisti Quindi ci tengo molto anche al tuo parere ed in molti altri modi che scoprirai proprio navigando queste pagine Interessante, vero? E allora mi sto chiedendo Che diavolo ci fai ancora sulla pagina About?